Il richiamo è forte, avvisare tutti che le vacanze sono finalmente arrivate, ma discrezione dovrebbe essere la parola d'ordine per chi è in procinto di partire per le meritate ferie. Facebook e Twitter possono dunque aspettare e sarebbe meglio postare le foto una volta tornati, come a dire che se si scrive sui social network che la casa è vuota, non è poi detto che tutti coloro ai quali si è data l'amicizia siano poi amici veri o persone fidate. E' uno dei tanti consigli delle tante associazioni di consumatori, ma non l'unico. Per esempio meglio mettersi d'accordo con i vicini per raccogliere la posta se si sta via per un periodo prolungato, salvo poi ricambiare il favore. A mettere in guardia in questi giorni sono anche i carabinieri e particolarmente attivi sono quelli di Udine, che proprio alla luce di un aumento esponenziale di furti e raggiri estivi invitano i cittadini alla prudenza e forniscono un decalogo per difendersi dai malintenzionati. Prima regola, non fare entrare estranei in casa, le forze dell'ordine non si presentano mai in borghese. Nel dubbio meglio contattare il 112. Altri consigli, non consegnare soldi a estranei, non apporre firme senza prima aver letto bene, chiudere porte e finestre prima di uscire di casa, non lasciare le chiavi inserite nel quadro dell'auto neppure se parcheggiate in giardino. I carabinieri ricordano anche la classica truffa degli specchietti delle auto e quella del bicchiere d'acqua utilizzata come scusa per entrare in casa, soprattutto nei giorni di gran caldo.